Da una campana ad un'altra, dalla Turris alla Cavese, dal mancato terzo successo consecutivo all'assalto, al quarto risultato utile di fila. Non deve guardarsi alle spalle il Foggia e recriminare per il pareggio interno contro i Corallini. Testa solo e soltanto ai Metelliani e la sfida in programma domani a partire dalle ore 17.30 al Simonet Lamberti di Cava de Tirreni. Occasione da sfruttare per i rossoneri di Marco Marchionni. La Cavese infatti ha vinto una sola partita delle nove giocate in questo campionato di Serie C e è caduto contro un'altra pugliese al Ventura con il Biceglie ed è reduce dalla scoppola interna rimediata in casa contro la capolista Ternana che a Cava domenica scorsa è andata a segno ben cinque volte. Formazione Foggia ancora senza Agostinone e Nessens. I tre di difesa davanti a Fumagali dovrebbero essere Germinio, Gavazzi e Del Prete con Calombo a destra e di Ieno a sinistra. Salvi aggira da play con Vitale e Rocca ai suoi fianchi. Tandem d'attacco composto invece da D'Andrea e Curcio, quest'ultimo autore di una doppietta contro la Turris e il capocannoniere del Foggia con cinque centri ed è terzo nella classifica marcatori del G1C alle spalle di Cianci del Potenza e Falletti della Ternana. È stato programmato per mercoledì 25 novembre alle ore 15 intanto il recupero del match esterno della non aggiornata contro la Vibonese, non disputato domenica scorsa per i diversi casi di positività al Covid-19 registrati tra i calabresi. Il Foggia a partire da domani scenderà in campo in pratica ben cinque volte in 14 giorni. Mercoledì prossimo trasferta a Teramo per il recupero della terza giornata, domenica 22 derby allo Zaccheria con la Virtus Francarilla, sette giorni dopo impegno esterno a Biterbo.